I ragazzi stanno bene. Lorenzo sedeva a tavola e da lì guardava la neve cadere. Da dietro il vetro osservò un fiocco che, spinto dal vento, si depose sulle luminarie di Natale. Sta attaccando, pensò, e si chiese se il signor Posenato avesse messo il sale sulla rampa dei garage. Domani si sarebbe alzato presto ed era preoccupato di non farcela ad uscire con la macchina. Sua moglie chiuse la porta del corridoio e si avvicinò in punta di piedi. Lui si spostò con la sedia e lei si sedette sulle gambe. «Come stanno i ragazzi, amore?» chiese lui. «I ragazzi stanno bene. Marco non riesce a dormire. È in ansia per Babbo Natale. «Ha paura che non trovi la sua casa?» rise lei. «Che forte!» rise lui. Lei gli attrezzò i capelli. Matilde è ancora intasata e piena di raffreddore. «Speriamo che domani stia bene, altrimenti ci toccherà tenerla a casa», disse. Accese l'interfono e fece per appoggiarlo al centro della tavola, ma lui le si aggrappò addosso, impedendole di alzarsi. «Dai, lasciami!» disse lei, facendo finta di arrabbiarsi. «Avo sparecchiare la tavola!» «Lascia fare a me», disse lui. «Riposati un po', Laura!» Prese i piatti due alla volta, così come i bicchieri e le posate. Quando riempì il lavello, lasso scorrere l'acqua calda dentro un pentolino. Poi vi versò il detersivo e si infilò i guanti di gomma. La cucina era stretta, ci stava una persona alla volta. Così, Laura si sedette sul divano, in sala e prese il cellulare. Lorenzo cominciò a grattare le stoviglie, riempiandole di schiuma bianca. «Ti ricordi di Luca Biasi?» chiese lui, accendendo l'acqua per sciacquare i piatti. Lei non alzò lo sguardo dal cellulare. «Chi?» «Il tuo ex collega?» «Sì, proprio lui. Ogni tanto ci vediamo per una birra, quando torna a Verona. Lei non disse niente. Lui continuò. Ti ricordi che si era licenziato per andare a lavorare alla Irma Forni?» Spense l'acqua e ruotò appena le spalle. «Beh, ha fatto carriera, sai. Adesso è responsabile di processo in quell'azienda. Lei si misce ad armeggiare con il cellulare. «Sono contenta per lui», disse, e lo guardò fisso negli occhi. Lui si chinò verso il lavello. «Mi ha chiamato oggi perché stanno cercando un responsabile manutentore. E si è ricordato di me. Ha fatto il mio nome ai suoi capi. E mi chiedeva se mi poteva interessare fare un colloquio da loro. Ho detto che ci avrai pensato. Ne avrei parlato prima con te. «Lorenzo, scusa, ma parli di Biasi, quello che è andato a Milano?» «Sì, Laura, proprio lui. Mi ha chiamato oggi». «Sì, Lorenzo, me l'hai detto prima. Non sono sorda. Ma si parla di Milano. La Irma Forni sta a Milano o sbaglio?» «Lo so che sta a Milano. Ma è un'ottima possibilità di carriera. Potrei avere uno stipendio decente. Mi darebbero degli incentivi. Potrei chiedere un rimborso chilometrico. Lorenzo, ma non ti trovi bene dove sei adesso? Hai già uno stipendio decente. Il signor Bernardi ti lascia fare quello che vuoi. Tu sei il manutentore capo. Lo so, Laura, disse lui girandosi di scatto. Teneva le braccia aperte, con i guanti gialli che gocciolavano. Ma quella è un'azienda familiare. «Ci siamo solo io e il signor Bernardi. E due operai, vabbè, ma le mie prospettive finiscono qui!» Lei si alzò e gli andò incontro. Gli stringse i fianchi, dondolandosi leggermente. «Lorenzo, lo so che sei bravo e che non hai problemi a trovare un altro lavoro. Qualsiasi lavoro. Ma adesso sei vicino a casa. Se dovesse succedere qualcosa ai ragazzi, tu ci saresti. È importante per loro. E per me?» Il movimento del bacino era dolce e regolare. Gli provocò una leggera erezione che lei avvertì subito. Lui si liberò e si appoggiò sul lavello. Vide la schiuma bianca spuntare tra le dita dai guanti gialli. Fece un respiro profondo. «Non so, amore», disse lui, «ma...» Vedi, in quel momento l'interfono gracchiò un suono che poi divenne un pianto metallico. «Matilde», disse lei e sparì in corridoio. Lui vide l'acqua sporca sparire dentro il filtro. Ascolta la voce di lei dal microfono. «Ehi, amore, che c'è?» «Non piangere. La mamma è qui. Non aver paura». Quando ebbe finito di lavare le stoviglie, si avvicinò alla finestra e guardò la neve cadere. Osservò la piccola montagna bianca che si era formata sul balcone. Aveva coperto le luminarie e da sotto quel cumulo riusciva ad intravedere piccoli scintilli blu, rossi e gialli. Si appoggiò al vetro e lo sentì freddo. «Ti prego, fai che il vecchio posenato abbia messo il sale», pensò. Non udì Laura arrivare e quando lei lo abbracciò da dietro le spalle lui ebbe un sussulto. «Amore, ti ho spaventato», disse lei. «Un po', disse lui. Lui si girò. Dando le spalle a tutta quella neve che cadeva, lei gli si accoccolò tra le braccia e appoggiò la testa sul suo petto. Sentì il cuore di lui battere forte. «Sai arrabbiato per il lavoro», gli chiese. «Eh no, Laura, figurati, non ci penso più». Lei fece un sospiro. «E allora che hai? Ho paura di non farcela più a uscire di casa domani. Tutto qua». Lei alzò la testa e lo guardò fisso negli occhi, mentre lui si sforzava di sorriderle. a lei non farcela più e di non farcela più a uscire del mio auto. «Di abbiamo un ruincolo». «Sai arrabbiato per il rosa, e lo guardò che si trova di un doggono». E lo guardò che si rè non farcela più a uscire di farcela, «Sai arrabbiato per il mio auto».